Allora, sentite, spesso si sente raccontare soprattutto, e qui dico una malignità degli insegnanti di lettere, che la relatività dice che tutto è relativo, che sostanzialmente tutto dipende dai punti di vista. E invece se c'è una cosa che faceva arrabbiare Einstein era proprio questa, cioè il fatto che lui, che tra l'altro non ha dato il nome di teoria della relatività a questa teoria, ma gli è stato dato da altri, lui era invece convinto che la teoria della relatività fosse una teoria degli assoluti, cioè delle cose che non cambiano fra i vari sistemi di riferimento. Se pensate soltanto ai due assiomi della teoria della relatività, il primo dice che la velocità della luce nel vuoto è la stessa per tutti gli osservatori, altro che relativo, e la seconda dice che tutte le leggi della fisica hanno la stessa forma in tutti i sistemi di riferimento. Quindi è decisamente una teoria delle cose che restano. E chiederei a voi, ma abbiamo già collezionato anche noi un'altra serie di grandezze su cui tutti gli osservatori sono d'accordo. Tempo proprio e lunghezza propria sono grandezze su cui tutti gli osservatori concordano. Nel senso che se tutti hanno orologi a luce identici, ognuno è d'accordo che l'orologio a luce nel suo sistema di riferimento batte il tempo secondo il tempo proprio e su questo tutti concordano. Così come eventuali aste metriche di riferimento, tutti sono d'accordo che nel sistema di riferimento in cui queste sono fisse, cioè hanno la loro lunghezza propria, queste sono uguali. Quindi non è vero che in relatività tutto è relativo, alcune cose non lo sono. Quello che facciamo oggi è andare alla ricerca di un nuovo invariante che ci aprirà degli sviluppi. E per poterlo fare io comincio con un esercizio che ho preso da un libricino che già vi ho citato e che vorrei col vostro aiuto sviluppare perché ci darà delle sorprese. Allora abbiamo questa situazione, Gaia che passa accanto a Ivan correndo verso destra con una velocità di 3 quinti di C. E poi c'è Lisa, sorella di Gaia, che passa accanto a Ivan, anche lei, correndo verso destra, anche lei, con velocità ancora più grande, 4 quinti di C. E qui abbiamo detto nel riferimento di Ivan che consideriamo quello fermo. Ivan piazza due bombe a orologeria accanto alla strada, vabbè, una a 5 metri dall'altra. Pensiamo, non so, una nell'origine e l'altra alla posizione 5 metri. La bomba di sinistra esplode quando l'orologio al suo interno segna a mezzogiorno, quindi chiamiamolo il tempo zero. Quando scocca a mezzogiorno quella esplode. Quella di destra, cioè quella che sta nella posizione 5, esplode quando l'orologio al suo interno segna 10 alla meno 8 secondi dopo mezzogiorno. Chiara la situazione? Quindi ci sono queste due bombe che sono programmate per esplodere a 10 alla meno 8 secondi di differenza una dall'altra e che si trovano nelle posizioni 0 e nelle posizioni 5 metri. La domanda è, quanto tempo trascorre fra le due esplosioni nel riferimento di Gaia e in quello di Lisa? Va bene? Facciamo, beh, semplicemente usiamo le trasformazioni di Lorenz, quindi cominciamo a prepararci il campo. La velocità di Gaia è 3 quinti di C, tra l'altro questo file ve lo mando e non preoccupatevi se perdete qualcosa. E quindi con 3 quinti di C il gamma di Gaia è 5 quarti, così ci servirà dopo. La velocità di Lisa è 4 quinti di C e quindi il suo gamma sarà 5 terzi, entrerà tutto nelle trasformazioni. I due eventi, esplosione delle bombe, per Ivan hanno queste coordinate. X uguale 0, T uguale 0, esplosione della prima bomba. Esplosione dell'altra, X uguale 5 metri, T uguale 10 alla meno 8 secondi. Adesso andiamo a vedere Gaia e Lisa quando vedono la prima esplosione. Allora, qui ho messo T di Gaia e di Lisa perché il risultato sarà uguale, anzi T primo. La formula cosa direbbe? Direbbe, trasformazione di Lorenz per il tempo, gamma volte T più beta fratto C per X. Il fatto che abbia messo il meno, per quale motivo? Ricordatevi, questo è il tempo per me, è uguale a gamma volte, il tempo per l'altro, più beta fratto C per la posizione dell'altro. E in beta c'entra la velocità dell'altro rispetto a me. Per Gaia e per Lisa, Ivan come si muove? Ivan le vede andare verso destra, quindi ognuna di loro vede Ivan che va verso sinistra. E quindi ecco il motivo del meno. Passato? Sì. Però, se per Ivan la prima esplosione avviene a 0 secondi e è in posizione 0 metri, cosa succede? Che entrambe le osservatrici sono d'accordo che la prima esplosione avviene al tempo 0. E lo stesso discorso di sempre, i sistemi di riferimento coincidono nell'istante 0 nell'origine. Quindi quello che può cambiare è l'istante di tempo della seconda esplosione. Allora andiamo a vedere. Per Gaia la seconda esplosione segue la stessa formula, però questa volta che cosa bisogna sostituire? Al posto del tempo, l'istante in cui esplode la bomba per chi è fermo. E abbiamo detto che era 10 alla meno 8 secondi. Meno beta di Gaia fratto C. Il beta di Gaia era 3 quinti e poi rimane la posizione della seconda bomba che è 5 metri. E qua sotto c'è C. Ho sostituito. Quanto viene? 0. Cosa vuol dire? La prima bomba per lei esplodeva al tempo 0, la seconda bomba per lei esplode al tempo 0. Cioè? Per lei sono simultanei. Sono simultanei. Quindi quello che per Ivan era prima la 1 e poi la 2, per Gaia avvengono nello stesso istante, a causa del fatto che lei si sta muovendo. Guardiamo cosa succede per Lisa. Lisa segue lo stesso ragionamento, queste le coordinate da mettere qua dentro sono le stesse, quello che cambia è il suo valore di beta che è 4 quinti. Andiamo a fare i conti e viene meno 5,56. Traduzione? Esplode non al contrario. Allora, il commento è questo, per Ivan esplode prima la 1 e poi la 2, per Gaia sono simultanei, per Lisa esplode la 2 prima e la 1 dopo. Cioè la sequenza degli eventi dipende dal sistema di riferimento. Domanda, è accettabile una cosa del genere? Più o meno, perché si violerebbe quel principio dell'informazione che deve viaggiare in una certa maniera, nel senso che se una cosa causa l'altra, necessariamente quella che causa deve avvenire prima e quindi deve essere in tutti i sistemi. Per come è impostato il problema? La bomba 2 esplode in conseguenza dell'esplosione della bomba 1? No. Erano programmate così, non c'era nessuna relazione di causa-effetto, quindi quando non c'è relazione di causa-effetto uno può anche accettarla questa cosa. Non c'è contraddizione perché non c'è relazione di causalità fra le due esplosioni. Possiamo accettarlo? Sì, perché i due eventi non sono uno dipendenti dall'altro. Ok, va bene per tutti questo ragionamento? Sì. Ok. Però ci sono degli eventi che sono invece uno la causa dell'altro. Ad esempio, se io scocco una freccia, evento 1, in una certa posizione, in un certo istante, e la freccia dopo aver viaggiato colpisce il bersaglio, evento 2, in un'altra posizione e in un altro istante. Cioè l'evento 1 è la causa dell'evento 2. Allora in questa situazione io troverei inaccettabile che gli osservatori vedano prima arrivare la freccia che non sia partita. Nel senso che verrebbe violato un principio di causa e di effetto. Quindi tutti vorremmo che concordassero su questo, perché questo è quello che succede. E allora che cosa vuol dire? Qui entriamo un po' nel discorso che ha già cominciato. Cosa vuol dire che un evento è la causa di un altro? Io ho riportato questo testo che mi sembra molto chiaro. Dire che un evento A è la causa di B significa che per A è stato possibile influire su B, interagire con B. Cioè l'informazione A è avvenuto, deve essere arrivata a B in qualche modo. E, poiché noi sappiamo che c'è un limite superiore alla velocità con cui questa informazione si può trasmettere, il limite superiore è la velocità della luce, dire che due eventi sono in relazione di causa-effetto vuol dire che A può essere in relazione causale con B solo se le coordinate dei due eventi sono tali, per cui un segnale inviato da A può aver raggiunto B, compatibilmente col fatto che la sua velocità non può superare quella della luce. Va bene questa idea? Quindi due eventi sono in relazione causa-effetto se l'informazione A è avvenuto, deve aver avuto il tempo di arrivare a B. Ok? Allora, qui sotto vi ho tradotto matematicamente questa cosa. Cosa riconoscete in questo? Pensata matematica. Un tema di Pitagora. Cioè? Delta X quadro, delta Y quadro, delta Z quadro. È una posizione, cioè... Una distanza? Se fosse così... Un segmento, cioè... Se fosse così, cosa sarebbe? Non li potete vedere un triangolo rettanto. Quindi la distanza fra due punti nel piano cartesiano, giusto? Così, cosa vuol dire? È la distanza fra due punti? Nello spazio. Nello spazio. Considerando anche la terza coordinata. Considerando anche la terza coordinata. Se io divido la distanza fra i due punti, per la velocità della luce, che cosa ottengo? Il tempo che la luce senti a viaggiare da un punto all'altro. Quindi dire che la differenza dei tempi fra l'evento A e l'evento B deve essere maggiore o uguale di questa cosa, che cosa vuol dire? Se è uguale, vuol dire che la luce ha avuto tempo di informare B del fatto che A è avvenuto. Se è maggiore, vuol dire che qualcosa di più lento della luce, ad esempio una freccia, ha avuto tempo di informare B che A è avvenuto. Ok? Adesso questa cosa, e qui faccio un passaggio matematicamente perdito, ma è perché voglio arrivare a una certa cosa. Se io ho due membri che sono in una certa relazione e sono entrambi positivi, come è il nostro caso, posso elevarla al quadratto. Potrei dire che questa stessa relazione la posso scrivere così. Guardate un po'. Ho portato C a primo membro, ho elevato al quadrato e ho portato tutto secondo membro. E quindi mi viene C quadro delta T quadro, meno questo deve essere maggiore o uguale a zero. Cioè la traduzione di tutto quel che abbiamo detto è due eventi sono in relazione di causa ed effetto, solo se le loro coordinate di tempi, differenza tra i tempi, di posizione x, y e z, stanno in una relazione di questo tipo. Ok? Adesso andiamo avanti poco alla volta. Riprendiamo un attimo l'esempio di Gaia e di Lisa. Allora, qui la cosa diventa impegnativa, non voglio farvi perdere troppo tempo. Vi ho messo sul classroom un piccolo foglio di calcolo di Google che permette di fare rapidissimamente i calcoli. Aspettate, ma forse questo merita che lo vediamo. Questo l'ho fatto proprio per questo esercizio. Io imposto qua un valore di beta, lui automaticamente mi calcola gamma, mi calcola la velocità e poi mi fa la trasformazione fra sistema di riferimento fisso e sistema di riferimento in moto. Allora, come vedete qua ci sono questi due valori, 5 metri e 10 alla meno 8, che sono che cosa? I valori nel riferimento di Ivan, giusto? Guardiamo nel riferimento di Ivan, Ivan rispetto a se stesso si muove, è fermo, è fermo, non si muove. Quindi, se io metto al posto di beta uguale a 0, ottengo appunto i valori di posizione istante e guardate in questa zona, vedete che ho evidenziato una cella, C delta T al quadrato. Ovviamente delta T è fatto rispetto allo 0, cioè l'istante iniziale. E poi, meno delta X quadro, visto che le delta Y e delta Z sono 0. E ho calcolato questa quantità, C quadro delta T quadro, meno delta X quadro, eccetera. Quanto viene? Meno 16. Adesso mettiamo una delle due, ragazze. Gaia, che si muove rispetto a Ivan con una certa velocità e quindi per lei Ivan si muove a meno 0,6. ritroviamo quindi i valori di simultaneo di tutto. Guardate un po' questo calcolo in basso. Quanto ci dà? 60 a meno 16. Ok. E per la terza ragazza, quella che... la seconda ragazza è quella che si muove a meno 0,8? è uguale. Uguale. Grande questa cosa. Cioè, quella quantità che noi abbiamo costruito così, faticosamente, che adesso vi ripresento, e che doveva essere maggiore di 0, giusto se fossero stati eventi in relazione di causa-effetto, in tutti i casi viene meno 16. Cioè, che cosa mi dice? Prima di tutto, che quei due eventi non sono in relazione di causa-effetto. Ed infatti, se ci pensate, la luce per fare 5 metri, quanto impiega? Impiega 5 metri diviso 3 per 10 alla 8. Sì. Giusto? Quindi rimane 5 terzi per 10 alla meno 8. Più di quel 10 alla meno 8 che l'intervallo fra le esplosioni. Quindi la luce non ha avuto tempo, quando avviene l'esplosione 1, di raggiungere l'altra bomba. Quindi in questo senso non possono essere a relazione di causa-effetto. Ma seconda cosa, questa quantità che noi abbiamo costruito, questa cosa qui, è qualcosa di importantissimo, perché è qualcosa che è invariante, che è uguale per tutti i sistemi di riferimento. E non per niente, questo è quello che si chiama intervallo invariante. Ora troverete sul file, e ve ne dispenso, la dimostrazione che vi faccio soltanto vedere. Quindi il punto a cui arriviamo è questo. La combinazione di coordinate che abbiamo costruito sembra essere una grandezza invariante, infatti si chiama intervallo invariante, o in inglese space time interval. e se questo intervallo spazio-tempo è positivo oppure nullo, ci può essere causalità, altrimenti no. Dimostrazione dell'invarianza, vela buono, però guardate, si parte da due eventi che per un osservatore hanno questa formulazione, tra l'altro delta sigma quadro è il simbolo per questo intervallo invariante. Lo si calcola per l'altro osservatore applicando le trasformazioni di Lorenz e alla fine si riesce a dimostrare che quella quantità calcolata da un osservatore oppure calcolata dall'altro sono uguali. Allora, forse adesso questa cosa vi sembra diciamo una costruzione astrusa, però abbiamo detto alcune cose importanti, ve le riassumo. Cioè che l'ordine in cui gli eventi avvengono, aspettate, stacco così, mi guardo e mi guardate in faccia. L'ordine in cui gli eventi avvengono può essere diverso a seconda degli osservatori. Cioè alcuni osservatori possono vedere le cose andare in ordine invertito, ma solo se gli eventi non hanno un legame causa-effetto. Se gli eventi hanno un legame di causa-effetto, tutti gli osservatori concordano sul fatto che debba avvenire prima uno che non l'altro. Questo fatto, matematicamente, ci ha portato a dire che la luce o un altro segnale più lento deve avere il tempo di informare in posizione B che è avvenuto in un certo istante qualcosa in posizione A. E questo ragionamento che abbiamo fatto, che era quello della radice quadrata, ci ha portato a costruire questa costruzione di coordinate, cioè l'intervallo invariante, C quadro delta T quadro meno delta X quadro meno delta Z quadro, che è ciò che descrimina fra il fatto che due eventi siano in relazioni di causa-effetto oppure no. La bellezza di questa cosa è che questa costruzione dà lo stesso risultato per tutti gli osservatori, quindi se c'è una relazione di causa-effetto per un osservatore è così anche per tutti gli altri. Quindi questo è un invariante relativistico. La prossima volta vedremo una cosa bella, cioè che uno degli insegnanti di Einstein, cioè Minkowski, vedendo questa cosa riconosce in questa struttura un modo di calcolare le distanze in uno spazio-tempo di quattro dimensioni. E quindi viene fuori una nuova interpretazione della relatività che è quella che poi diciamo è diventata più famosa e più diffusa che ci aiuta a capire a capire, no, a avere dei sospetti su che cosa sia il tempo, sul fatto che il tempo effettivamente scorra oppure no e perché diciamo osservatori diversi vedono tempi diversi quando ci sono dei movimenti.